Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Farotube e oggi siamo qua con un videotutorial. Quest'oggi andremo a vedere come andare ad anticipare o posticipare il nostro motore Piaggio. In questo caso abbiamo il bloccone classico 180, 150 o 125, ma la stessa procedura vale anche per gli scooter originali Piaggio 50cc. E andremo a vedere appunto come poter andare ad anticipare o posticipare la nostra accensione originale, quindi senza comprare un'accensione a rotore interno. Prima di partire con il video vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video e di attivare la campanellina affinché riceverete le notifiche quando uscirà un nuovo video. In questo modo potrete supportare anche il canale. Detto ciò partiamo! I più attenti sicuramente si ricorderanno che nel mio canale avevo già fatto un video su come andare ad anticipare o posticipare, quindi mettere in fase, il nostro motore attraverso l'accensione di tipo aftermarket, cioè quella a rotore interno. Ad esempio in quel caso avevamo visto la Malossi Selectra. Ma oggi invece andremo a vedere come si fa con i tipi di accensione originale, proprio perché bisogna utilizzare un trucchetto particolare, in quanto quelle originali non sono predisposte per eseguire questo tipo di lavori. Ci sono due modi per farlo e nel video andremo a vederli tutti e due. In questo modo ognuno di voi potrà utilizzare quello che preferisce. In questo video chiaramente non andrò a mostrarvi ancora come si utilizza il comparatore, che è assolutamente uno strumento necessario per trovare il punto massimo superiore. Quindi il mio consiglio è quello di, prima di guardare questo video, andare a vedere il video precedente in cui andavamo a settare e mettere in fase la Selectra Malossi affinché possa già saper utilizzare il comparatore ed essere già pronto per questo video. Detto ciò, iniziamo! Iniziamo allora con un po' di teoria, miei cari. Dunque, come funziona la nostra fantastica accensione? Il suo funzionamento è veramente molto semplice. Abbiamo un volano, che è questo, in cui il signorino tramite una chiavetta, che come vediamo sull'albero motore, eccola qui, sarà posizionato sull'albero motore. Quindi il nostro volano seguirà l'albero motore. Successivamente abbiamo i nostri poli, ma non ci interessano per questo video, quindi lasciamo stare. Quello che ci interessa a noi, invece, è il pick-up, che è proprio questo. Il pick-up che cos'è? Il pick-up non è altro che un sensore che, quando sente il passaggio di un certo punto sul volano, sa che dovrà scoccare la scintilla perché ci troviamo al punto massimo superiore. Quindi, per farla semplice, il nostro volano è attaccato al nostro albero motore. Il nostro albero motore gira. Nel momento, facciamo finta che sia il mio dito, in cui un punto del volano passa sopra il pick-up, il pick-up sentirà il segnale, manderà il segnale alla centralina, la quale centralina manderà il segnale alla bobina, la quale bobina scaricherà il contatto elettrico alla candela e quindi scoccherà la scintilla. Chiaramente, il volano è fissato sull'albero motore in posizione in cui, quando il punto del volano passa sul pick-up, noi ci troviamo perfettamente al punto massimo superiore. Ora, detto ciò, mi starete chiedendo, ma qual è il punto del volano che va a sentire il pick-up? Guardiamo il nostro volano. Notate niente di particolare? Sì, c'è una freccia qui e poi notiamo questo foro che è in un punto diverso rispetto a tutti gli altri. Se noi zoomiamo, ci avviciniamo, vediamo che all'interno c'è una specie di magnete. Eccolo lì. Questo, infatti, andando a fare la prova di verifica con la nostra chiavetta, andremo a vedere proprio che corrisponde al centro del pick-up quando il comparatore ci segnala che il pistone è al punto massimo superiore. Quindi questo sarà il punto che il pick-up andrà a sentire il passaggio e quindi capirà che noi siamo con il pistone al punto massimo superiore. Capito il ragionamento di base, ora è molto semplice andare a capire come andare ad anticipare o posticipare la nostra accensione originale. Le modalità sono due. La prima è quella di andare a muovere il nostro pick-up, quindi muoverlo a destra o a sinistra, secondo se dobbiamo anticipare o se dobbiamo posticipare. Perché chiaramente? Perché ipotizziamo che il nostro volano si trovi in questa posizione, in questa posizione debba scoccare la scintilla. Se noi lo andiamo a spostare, il nostro albero, che ripeto segue il nostro volano, si troverà in un punto più in basso, se ad esempio lo andiamo a spostare in questo punto, e qui scoccherà la scintilla. Quindi per il nostro pick-up, in questo punto, saremo al punto massimo superiore con l'albero, ma in realtà l'albero avrà già fatto 10 gradi in più, quindi starà già tornando indietro, quindi farà tic, qua dovrebbe scoccare la scintilla, la scintilla non scocca perché noi l'abbiamo spostato, torna indietro e qui scocca, quindi abbiamo posticipato. Viceversa, spostandolo verso destra, andremo ad anticipare la scintilla. Il secondo metodo invece, che è quello che vedremo noi oggi, sarà quello di andare a muovere il nostro volano. Chiaramente non potremo andare a ruotare il nostro volano finché non andiamo a eliminare la chiavetta. Quindi andrò a eliminare la chiavetta, mi andrò a trovare il punto massimo superiore attraverso il nostro comparatore, una volta trovato il punto massimo superiore e visionato che abbiamo il centro perfetto con il nostro pick up, andrò a ruotare il volano in senso anti-orario e in questo modo andrò a posticipare il nostro motore. Il primo trucchetto che vi insegno è questo. Siccome devo andare a posizionare il volano nella posizione originale senza chiavetta, mi devo per forza di cose inventare un qualcosa. Cosa mi sono inventato? Come vedete questo qua è il punto segnato sul volano dove c'è questa specie di calamita in cui lui va a sentire il passaggio del volano, dove il pick up va a sentire il passaggio del volano. Che cosa ho fatto? Ho preso una squadra e mi sono andato a segnare nella parte bassa dove il nostro signorino dovrà andare a scoccare la scintilla. In questo modo andandolo a montare senza la chiavetta, io sarò sicuro che una volta che il mio segno è perfettamente al centro del pick up, ho la certezza matematica che è posizionato nella posizione corretta al punto massimo superiore. E quindi da lì andrò a modificare a seconda di ciò che desidero. Andiamo a verificare se quello che dice Faro è la verità. Verifico che è perfettamente al centro e vado a vedere se sul comparatore sono perfettamente a zero. Perfetto, chiaramente l'avevo già preparato prima, infatti vedete questo è il punto zero. E io mi ritrovo con il mio segno perfettamente al centro del pick up. Quindi qui sono nella posizione originale. Adesso andrò a togliere la chiavetta e girando il mio variatore andrò a posticipare il motore. Perfetto, chiaramente l'avevo già preparato prima, infatti vedete il mio segno. Perfetto, chiaramente l'avevo già preparato prima. Perfetto, chiaramente l'avevo già preparato prima. Perfetto, chiaramente l'avevo già preparato prima. Il controllo del pick up è il tocco. E perfetto, non vi fai fregare la parte curvata perché è a fregarella. e andiamo a leggere sul nostro comparatore, tenendo fermo, che cosa ci segnala. Ci segnala circa 10 gradi di posticipo. Quindi, questo cosa significa? Significa che sono andato a posticipare, per la regola che vi ho incinato prima dell'albero, del suo funzionamento, di circa 10 gradi la mia accensione. Quindi, quando passerà in questo punto, lui penserà, il nostro pick-up e la nostra centralina, e quindi anche la nostra bobina, penserà che siamo al punto massimo superiore, invece saremo 10 gradi dopo il punto massimo superiore. Quindi abbiamo posticipato. L'unico trucchetto che vi segnalo è quello di, siccome l'albero, come vedete, va a scatti, vedete, tac, tac, scatta, a causa chiaramente della compressione del cilindro. Quello che vi volevo consigliare per poter fare un posticipo o un anticipo il più semplice possibile, il più corretto possibile, è quello di andare a serrare il dado e di stringerlo un pochettino. In questo modo, quando andrete a girare il volano, non vi scapperà a causa dei giri causati appunto dal motore, quindi degli scatti, come vedete. Vedete? Gira da solo, ecco. Vedete, se io voglio posizionarlo qui al centro, faccio un po' di fatica, perché come mollo, lui si gira. Invece andando a stringere il dado, questo problema è nettamente inferiore. Io spero di essere stato di aiuto anche per questo video tutorial. Se avete delle domande potete scrivermi nei commenti, appena sarà possibile vi risponderò. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto il video e di lasciare un like se il video vi è piaciuto e sono stato utile. Da Farotube è tutto, un saluto, alla prossima! Ciao!